musica 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 forza me 2-1 Barcelona 3-1 3-1 3-1 Barcelona 4-1 Si Il Barca è forte però non possiamo temerlo siamo sempre il Milan Abbiamo fatto due gol a San Siro Basta farne uno si dice Si dice che basta farne uno Ci chiudiamo e ripartiamo Quindi niente paura per la remontata Remontaremo che? Il Barca è il migliore club del mondo Il Messi Ancora non si sente aria di partita di sfida perché siamo pochissimi ancora Oggi dovrebbe arrivare il gruppo grande diciamo dei tifosi Forza al Milan È duro, duro, duro il clima Ma siamo testi Solo nominare la partita viene la pelle d'oca Milan è molto forte L'equipo è molto forte Siamo per Barca È di La Spalma Però ero del Barca 2-0 è un buon risultato ma non è facile No, è positivo Paura per questa remontata? Nooo, non c'è la remontata Questa c'era con 4-0 C'era E viva in basso Forza a Milan Un 4-1 4-1 Non credo che si È sufficiente per dare una classe di futbol Sì 4-1 a Milan e Barca 1-1 No, 4-1 a Milan Vale Sei qua per la partita a Barca 1-1 a Milan Dai, che sensazione c'è? Bella Meglio di così Stai qui in bella vita quindi a Barca 1-1 a prima della partita Ah beh Siamo chiamati oggi a Boston No, non so 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 Presidente del Milan Club Israele Sì, quanti siete che siete venuti a Israele? Siamo qua circa 30 tifosi Io vengo da Alghero in Sardegna Che poi è anche una città dove si parla del catalano che siamo gemellati con Barcellona Quindi Quindi un derby quasi È un derby, un derby quasi Anche se in Barcellona non ti fiamo contro le altre squadre Io sono milanista e quindi mi piace tuffare per il Milan E quindi